Sandro Frega, vicepresidente di Lega Coop, qui oggi all'incontro presso Esote abbiamo visto che possono essere diversi i temi di confronto e di sviluppo fra il mondo delle cooperative e il mondo dell'industria in campo sanitario. Sicuramente sì, a parte che noi abbiamo già un percorso strutturato con soggetti appartenenti al mondo dell'industria con cui stiamo sperimentando anche delle cose, ma sicuramente il tema dell'innovazione, quindi dell'industria collegata all'innovazione è un territorio fondamentale, fondamentale in sanità ma anche nel sociosanitario. Se pensiamo a tutta la gestione informatizzata delle cartelle cliniche ma anche al percorso in cui noi stiamo lavorando nel nostro progetto salute cercando di mettere in rete tutte le attività che facciamo a partire da quella delle cooperative fra medici di base per arrivare alla mutua che abbiamo lanciato recentemente e che costituiremo nei prossimi giorni. Quindi collegare questo percorso a meccanismi innovativi che tengano in rete questi elementi anche attraverso l'informatica ma con tutta la serie di strumenti diventa per noi fondamentale. Quindi è una giornata importante, naturalmente come tutte le cose c'è poi necessità di approfondire meglio e capire i link che possiamo utilizzare insieme proprio per ragionare in questi termini della rete perché oggi la crisi ci impone di far sistema e uno degli elementi su cui far sistema è proprio l'innovazione.